Salve! Come sapete recensire film e serie tv è il mio lavoro da parecchi anni e fino all'aprile dell'anno scorso guardavo film e serie sul normale televisore a 32 pollici che non era neanche un OLED, poi Sony mi ha mandato il televisore che vedete alle mie spalle, un Sony Bravia A90JXR OLED che ha cambiato il mio modo di vedere a casa film e serie, ha migliorato notevolmente la qualità del mio lavoro perché la definizione di questo gioiello è talmente alta che guardando film e serie su di esso si possono notare cose che sfuggirebbero da un punto di vista puramente tecnico della fotografia e quant'altro se visti su un televisore normale e quindi cosa può esserci di meglio per me di un televisore del genere? Un Bravia XR A95K! Sigla! Ebbene sì, un paio di mesi fa Sony mi ha chiesto se volessi fare un upgrade al televisore al che quando mi è arrivata la mail mi sono chiesto ma in che senso un upgrade al televisore e mi hanno chiesto se volessi sostituire il mio Bravia XR A90J con questo Bravia sempre della serie XR A95K Io mi sono chiesto, mi è arrivato appena un annetto prima un televisore che ha cambiato radicalmente il mio modo di vedere film e serie e con il mestiere che faccio è stata una vera e propria rivoluzione Quando ho fatto il video su quel televisore avevo spiegato che le immagini erano talmente definite che quando avevo visto Lupin, la serie, quella di Netflix con Omar Sy mi ero reso conto che c'erano delle scene in cui la fotografia sbarellava completamente e questo perché si notano tutti quei piccoli difetti che con un televisore normale non si vanno a notare e soprattutto ho pensato qual è la differenza tra la A90J e la A95K La differenza è che questo è un QD OLED quindi non è un semplice OLED ed è un televisore semplicemente straordinario Allora ho detto sì va bene mandatemi il nuovo televisore sono molto contento infatti li ringrazio e voglio specificare una cosa con questo non significa che il televisore di prima, la A90J non sia una buona TV anzi è una TV il cui acquisto lo consiglio a chi magari vuole spendere un po' ma non vuole arrivare a circa 4.000 euro di spesa perché comunque la differenza è che quello è un OLED questo ha un pannello QD OLED che cambia sicuramente il modo di vedere film e serie però non è che rende meno interessante il televisore precedente perché già con quello io ero semplicemente soddisfatto e mi hanno chiesto di cambiare televisore in un momento storico perfetto perché di lì a qualche settimana sarebbe uscita la prima puntata di House of the Dragon e dopo circa un paio di settimane sarebbero uscite le prime due puntate dei Signori degli Anelli, gli Anelli del Potere prodotti che si possono guardare solo in televisione non sono film che si può scegliere di guardare in TV o al cinema quelli li devi guardare per forza su uno schermo televisivo e poterli vedere al meglio delle possibilità che la tecnologia odierna offre francamente era qualcosa che mi faceva veramente tanto gola e devo dire che è stata un'esperienza di un certo livello poterli vedere il Signore degli Anelli del Potere che piaccia o meno non è questo l'importante con la tecnologia che offre questo televisore mi ha migliorato nettamente l'esperienza televisiva vi dico solo che il primo episodio di House of the Dragon anzi i primi due ho dovuto vederli in prima visione mentre ero in vacanza su uno schermo normale a casa della Svet quando sono tornato e ho visto il terzo episodio io ho percepito una differenza su questa TV che era incredibile sembrava di vedere un'altra serie quindi questo mi ha anche fatto capire quali siano le differenze tra uno schermo normale e uno schermo di questo tipo in tanti mi chiedete ma secondo te qual è il setting migliore per guardarsi film e serie a casa? allora un televisore come questo che è un 65 pollici che costa circa 4000 euro è sicuramente uno strumento eccezionale per poter guardare al meglio film e serie è ovvio che il costo può sembrare alto in realtà io vi posso dire che per quello che offre il costo è assolutamente commisurato è ovvio che è un televisore il cui acquisto è consigliato a chi sta pensando di fare un investimento poi ovviamente vi lascio in descrizione qui sotto il link per vedere quali sono i TV di questa gamma ci sono vari prezzi questo qui è il 65 pollici quindi ha un prezzo alto ma ce ne sono altri magari di misura di pollici inferiore che sono un pochino più abbordabili il discorso è che per l'appunto se qualcuno sta pensando voglio cambiare la televisore voglio spendere un po' di soldi per me questo è il top di gamma è una delle cose migliori che potreste comprare per migliorare sensibilmente la vostra esperienza ma vediamo un attimino che cosa questo televisore effettivamente offre da un punto di vista anche tecnico innanzitutto questo Sony Bravi XR A95K ha la tecnologia QD OLED per cui i colori sono alla massima definizione possibile i neri sono i neri migliori che si possano pensare sono i neri più netti in assoluto e così anche la vastissima gamma di colori peraltro è un televisore che ha l'acoustic surface audio plus che è una tecnologia di audio surround che è semplicemente pazzesca e non serve neanche una soundbar è un po' come il televisore che avevo prima l'audio ha già una potenza e una definizione tali da non rendere necessaria la soundbar poi se uno vuole creare un impianto audio ancora superiore può naturalmente farlo però in teoria non ce n'è bisogno è una tecnologia avanzatissima che adatta il suono anche alla posizione dello spettatore e poi ha anche il Bravia Cognitive Processor che è un processore che cerca di simulare le funzioni cognitive del cervello umano quindi in sostanza è una tecnologia che avvicina diciamo l'esperienza di visione quindi i colori e le immagini a quelle che si possono ottenere tramite l'occhio e il cervello umani e io la differenza la vedo tantissimo io nel momento in cui guardo qualcosa su un altro schermo mi sembra di star guardando qualcosa di completamente differente come vi dicevo prima e questo secondo me è a dir poco eccezionale e poi c'è anche la Bravia Cam che è una webcam vedo di riuscire a farvela vedere la potete vedere lì è una webcam che sostanzialmente riconosce la posizione dello spettatore proprio nella stanza e poi ti permette di videocettare e di fare altre cose interessanti l'utilizzo ovviamente è opzionale però secondo me è abbastanza utile ma naturalmente la cosa più interessante è il fatto che ci sia una definizione delle immagini che è semplicemente straordinaria giusto per farvi capire voglio mostrarvi qualche secondo solo per darvi l'idea un quadro ecco questo è per farvi capire il livello di definizione che si può ottenere che secondo me è eccezionale stessa cosa dicasi per House of the Dragon insomma se ne può discutere se ne può discutere direi no voglio dire non solo questo ve l'avevo già detto quando vi avevo mostrato il televisore che avevo fino a qualche settimana fa chi possiede un Sony Bravia soprattutto quelli della linea XR ha accesso ad un'esclusiva piattaforma di streaming di Sony che è Bravia Core tra l'altro c'è il tasto di accesso non so se si vede direttamente sul telecomando di Bravia Core in questa nuova versione del telecomando smart che è eccezionale hanno inserito direttamente il tastino che ti rimanda subito alla piattaforma Bravia e infatti eccola con un click ci sono già dentro Bravia Core è un servizio di streaming secondo me eccezionale che attualmente è quello che offre la migliore esperienza visiva a livello di qualità dei prodotti inseriti nel catalogo infatti su Bravia Core c'è la più vasta collezione di film in IMAX Enhanced ovvero un'esperienza unica nel suo genere che ha ottenuto un certificato proprio da IMAX e non si può guardare film in questo tipo di formato su nessun'altra piattaforma di streaming poi ci sono alcuni dei film di nuova uscita che si possono riscattare da 5 a 10 e poi c'è un catalogo con la visione illimitata adesso vi mostro un po' come sono i film in IMAX Enhanced allora qui come vedete c'è lo streaming limitato quindi ci sono i film con lo streaming senza limiti vedete Spider-Man Nuovo Universo poi c'è Venom poi Hotel Transylvania 3 Peter Conigli ok Alpha un'amicizia forte con la vita Spider-Man Oncoming e poi c'è appunto l'esperienza IMAX Enhanced ecco qua qua c'è lo streaming illimitato dell'IMAX Enhanced e poi ci sono anche quelli a pagamento che sono le nuove uscite però ecco ad esempio Spider-Man Oncoming vi voglio far vedere un pezzettino per farvi capire non so quanto si possa notare dal filmato ma cercherò di farvi capire come mai è un'esperienza totale secondo me già dal filmato con la videocamera si può capire la differenza sui colori sulla fluidità delle immagini guardate che roba semplicemente allucinante mamma mia quindi penso abbiate capito come mai questo televisore mi entusiasmi così tanto se poi siete gamer vi posso dire che l'ottimizzazione con PlayStation 5 è perfetta questa è The Last of Us parte 1 scusate è difficile giocare da riflesso ma come potete vedere anche a livello grafico è qualcosa di eccezionale è veramente spettacolare guardate che roba e insomma il supporto a PlayStation è qualcosa di clamoroso quando gioco io rimango sempre al limite mi ricordo che avevo giocato un gioco poco prima di andare in live qui sul televisore quando sono andato in live era Blasphemous dovevo riabituarmi allo schermo piccolo era talmente enorme talmente perfetta la definizione che ho iniziato a sbagliare i tempi e quant'altro perché non ero più abituato allo schermo più piccolo per dirvi quanto può condizionare un'esperienza di gioco del genere è qualcosa di pazzesco anche perché negli ultimi due anni la nostra vita ha subito dei cambiamenti non indifferenti la pandemia a causa del covid ci ha portati a valorizzare a dare più importanza all'esperienza o un video e infatti sono in tanti quelli come dicevo prima che mi hanno chiesto ma perché non fai un video su come tu guardi effettivamente i film e le serie a casa consiglia un buon setting è logico che un setting non indifferente per guardare al meglio i prodotti sul proprio televisore ha un costo però per l'appunto io credo che se siete di quelle persone che vogliono un'esperienza sensazionale seduti comodamente sul divano sulla loro poltrona questo televisore faccia assolutamente al caso vostro io non avevo mai dato particolare peso a questo tipo di cose io potevo guardare un film o una serie anche su un francobollo all'occorrenza però il discorso è che da persona che non ha mai voluto acquistare prima televisori di una certa portata non tanto per il costo perché comunque ad esempio io sono pieno di buoni Amazon avrei potuto comprarmi un televisore di un certo livello senza effettivamente spendere un euro o comunque se anche avessi voluto spendere dei soldi lo avrei fatto non era un problema economico era proprio un problema di mentalità non mi sentivo di avere la necessità ed è assurdo visto il mestiere che faccio più io posso guardare un prodotto in alta qualità meglio lo posso giudicare poi se un film è brutto è brutto anche in 4k IMAX e NANST e siamo tutti d'accordo però mi sono reso conto solo nell'ultimo anno e mezzo di quanto la qualità possa effettivamente cambiare non dico il pensiero su un prodotto ma sicuramente l'esperienza di visione e se malauguratamente dovesse che so entrare un gabbiano e beccarne il televisore sullo schermo e spaccarlo io non riuscirei più a tornare indietro andare ad acquistarne subito uno identico due minuti dopo perché prima non mi facevo troppi problemi adesso che ho valicato la linea della qualità di visione dell'home video per me è veramente impossibile pensare di tornare a guardare film e serie su uno schermo normale soprattutto io sfrutto tanto i film in IMAX e NANST perché guardarmi un film con quella qualità è qualcosa di incredibile io sono il primo a dire che tra guardare un film in televisione e guardare un film in sala sceglierò sempre di guardarlo in sala abbiamo visto soprattutto negli ultimi mesi che spesso c'è stata la possibilità di scegliere se guardare un film sul proprio televisore o se guardarlo contemporaneamente cioè magari una sera tu puoi decidere un certo film di guardartelo sul televisore o di andare al cinema a vederlo ecco io in quel caso scelgo sempre il cinema però ci sono casi in cui io certi film non me li posso guardare direttamente in in sala perché magari non danno il film dalle mie parti faccio un esempio The Gray Man se non erro tra l'altro questo televisore mi è arrivato proprio il giorno in cui è uscito The Gray Man che non mi ha fatto impazzire come film però è una pellicola action che andrebbe guardata su uno schermo di un certo livello diciamo che su un buono schermo rende di più ovviamente la resa maggiore ce l'ha in sala ma non potevo andare a vederlo in sala perché dalle mie parti non lo proiettavano lo proiettavano solo a Milano ma in quel periodo non avevo fisicamente il tempo per andare a Milano a vederlo rimaneva per pochissimi giorni e allora ho avuto la fortuna di ricevere il televisore la mattina in cui è uscito The Gray Man ed è stato il primo prodotto che ho visto sul mio Sony Bravi XR a 95k e devo dire che soprattutto nella scena ad esempio dei fuochi artificiali il pannello Q di OLED la sua vasta gamma di colori mi hanno lasciato stecchito per quanto a me il film non sia piaciuto ho potuto quantomeno apprezzare alcune componenti visive grazie allo schermo quindi se io non ho la possibilità di andare a vedermi un film al cinema ma ho la possibilità di guardare quello stesso film sul televisore diciamo che non è come essere in sala ma sicuramente mi migliora nettamente l'esperienza di visione e secondo me se si è appassionati di film e serie è importante a un certo punto dovrebbe venire anche un po' l'esigenza di voler tentare un upgrade tecnico per poter guardare al meglio questi prodotti e in un certo senso soddisfare al 100% la propria passione poi ovvio se uno non può per qualche motivo prendere un televisore di questo tipo di gamma comunque i film se li può guardare lo stesso però se magari erano settimane che stavate cercando di capire come migliorare l'esperienza e avevate un piccolo capitale da investire perché volevate farvi un impianto io vi consiglio e dare un'occhiata al link in descrizione dove potete sapere tutto quello che c'è da sapere dal punto di vista tecnico io non sono sceso eccessivamente sul tecnico perché non è molto il mio campo il lato tecnico di questi televisori vi ho detto le cose principali ma ci sono tante altre cose da scoprire ad esempio il telecomando ha una funzione smart che se collegato con google può essere trovato con il suono della voce è una cosa che ci so è una cosa che magari avete già sentito però io che sono la persona più disordinata del pianeta terra e che perderei anche le dita della mano se non fosse che sono saldate ampiamente la sfrutto perché quando prendo il telecomando che magari va perso tra i cuscini lo chiamo e il telecomando si fa trovare può essere una cosa interessante per i distratti cronici come me la butto lì quindi stiamo parlando di un'esperienza veramente eccezionale mi sono rivisto recentemente spider man no way home su netflix con questo televisore e devo dire che per quanto quel film abbia dei grossissimi problemi lo sapete che a me ha emozionato rivederlo con questa qualità con questa gamma di colori con questa fluidità e devo dire che l'emozione me l'ha fatta scatolire ancora certo con la qualità che offre questo televisore ho notato parecchio che gli effetti visivi non erano granché si notava ancora di più però comunque l'emozione c'era ed è scaturita molto potente per cui spero che questo video su questo mio nuovo setting su questo mio nuovo dispositivo su cui guardo film e serie vi sia piaciuto e magari che qualcuno di voi abbia iniziato a considerare l'idea di fare l'investimento e di prendersi questo magari non il 65 pollici per l'amor del cielo non è necessario averlo così grande però anche il 55 è un signor televisore quindi vi lascio il link per dare un'occhiata così se vi interessa sapete cosa fare io ringrazio ancora Sony per avermi inviato questo Sony Bravix R 95K ringrazio voi per avermi seguito fin qui vi abbraccio vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo bui vlog ciao a tutti grazie a tutti